Ok, forse, benvenuti in un altro video in compagnia di Standard G93 per mia sfortuna Che fa schifo che pompa si è notato Comunque andiamo al sodo Dobbiamo fare diverse partite e cercare almeno di vincerni una sola C'è la faccio? No, va bene Tutti te l'abbiamo scritto sottofondo? Grazie signore regista secondo Corregista Scurregista No, no, c'è il regista prima che è Giuseppe Poi c'è lo scurregista di mio fratello Mi metto la musica sottofondo No, 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 questi finti sui misi mi mandano in crisi Sì, sì, sì In crisi sta in... Non lo so, andiamo in pianto La strada del successo fa vincere soldi per perdere amici Oh no, bambini e bambini e bambini e bambini Ma tra il tempo vai ora Vabbè Però non devi mettere la voce perché se no mi danni il copyright, capito? Perché il copyright? Perché si sente la canzone, non devi metterla Non l'ho ripresa su YouTube sta canzone Quindi niente copyright Ti metto la canzone senza voce Poi canto semmai faccio una mini canzone per... Gli inventi? È bella, è simpatia Anche meglio, quindi no Raga, non c'è nessuno Questa zero copyright Sulla canzone del Capitano Cino Proprio alzo la mano Sono il tuo Capitano Muovi a tempo il Caccino Ma non mi interroga Ma se non mi interrogi mangi un panino Franci, c'è il video, eh POMPA LE GENDALIO Sono un coglione Non l'ho attivato Non l'ho attivato Sono cascato Sono cascato, va bene Ragazzi, spero che voi non l'avete visto sta... Questa parte No, perché io pensavo di attivare adesso il colio Mi raccomando, iscrivetevi al canale Lasciate... Accendete la camparellina E lasciate un bel mi piace E se non siete iscritti, cosa aspettate? Iscrivetevi E se invece avete fatto anche voi una cosa stupida E se invece avete fatto una cavolata come me Perché mi è fatto un colpo di pompa quando io mi stavo buttando le bende? Vabbè Mi stavo buttando le bende inutilmente Marco ho sprecato due bende Dove sei? Dai mi sto mendicis, grullo Se ci sentite chiamarci grulli è perché Marco lo è veramente Marco posso aprirle io le casse di munizioni perché ho una missione Commentate con grulli Grulli Hashtag grulli Hashtag Marco grullo vai Giusto e guarda che non supera i 15... Bravo Guarda che non supera i 15 minuti So per di 15 secondi Mi sono paura di quello che fai quando io non guardo Lasciamela Lasciami le casse di munizioni e lasciameli a me No La casse di munizioni Tempo ben che anche prendete le munizioni e me basta aprirle Prende le munizioni Marco io le bende le lascio, mi interessa Allora me le porto lo stessi Mi faccio Mi faccio tattico e sto pompa perché tattico e veloce e sto pompa invece è un pochino lento ma fatti tanti danni Come vedete come ragiona un vero pro delle cadute? Sì pro Sì pro Sutto Dimmi Pro Sutto Sotto 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 Marco 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 è questo Marco è un cretino lo so già tutti Marco Marco è un cretino lo so già tutti Marco Silvio Bravo Giuseppe quanto siamo? Siamo ben 5 minuti e 26 secondi 5 minuti? Oh no vabbè Marco ci sono due sci? oltre ad hashtag marco adullo mettete anche hashtag mister satan cosa c'entra? cosa c'entra mister satan? ma poi il peggior di questo di... ma cosa facciamo sponsorizzando anche noi? se sentite cantare a squarciagola non preoccupatevi è la sorellina se sentite cantare a squarciagola è la stupidità di Giulio e lo canto a squarciagola tu canti comunque appunto canto come ma non sono oh marco marco eh contala marco merito è l'altro medikit marco medikit ovviamente c'è un titan intelligente da chiedere due volte in farmi danno nessuno sa dove è il mio cuore no farli finire la partita se non la riesci a finire va bene lo stesso ma ecco beh no cosa se devi staccare lascia la mia mi porto il medikit e ti porto anche sto pompa bello bello no marco non sparare visto che te sei troppo lento io uso le bombe ombra che se ne fai io vedete che è il più intelligente del gruppo? non marco sicuramente dimmi che c'è scusa non è vero sì sì probabilmente ok ora no ma devi andare? non è male che non ti sei bevuto il cover ma lascia anche pompa tutto quanto come vedete il mio amico se ne devi andare che fortuna e mi dispiace molto non è vero non ti spiace e si viviamo un po' di antena madonna c'è guarda la colpita il don marco uno colpita il punto ciao marco ciao marco come vedete le 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 si ne è andato scrivete nei commenti marco si ne è andato con una faccina sorridente chi lo scrive e verrà salutato esatto ma deve anche lasciare il commento di chi perché sennò non ho puoi leggere tutti i commenti c'è gente so che lo vuoi dire per stile di andare a morire vado direttamente addosso oh cavolo sono due sono quattro, sono cinque, sono sessanta sono sani vai cavolo ciao nei vostri sogni mi pigliate come vedete sono ho detto vado 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 e poi sono scappate perché? perché se no sarei morto e magari facendo la tecnica del coniglio poi siamo rimasti in 29 la tecnica del coniglio la tac cerebrale del coniglio cioè Giuseppe ovviamente prima dice che sono una capra poi dice che sono un coniglio poi dice che sono un coiote un coiote solo con l'enna un po' se la fiii che cosa sono? sei una cosa che non posso dire in altra voce ah è vero un umano guarda se c'è lì tanto per questo parte la taglio è vero un po' se la fiii si avvicina e la mia morte si avvicina dov'è l'ha ridotto qua nel giudice? hai visto? lo rifaccio? ah De Emanuele sta registrando ah ecco l'ho fatto cascare te lo rifaccio te lo rifaccio se sentite questa voce carinissima e dolcissima non vi preoccupate adesso finisco la partita ma che cattivo guarda se l'ho fatto ho fatto è entrato e poi è abbandonato che dato è cattivo che dato è cattivo guarda Giuse così Giuse Giuseppe 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 mi raccomando state qui buoni buoni aia se mi fa PM da qua ciao Franci no 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 91 nooo non ti fa mancare quanto l'ho lasciato non ti fa vedere non li faccio che mi devi vedere? ah li 52 ne hai lasciato ah De vorrei dire che sta partita può anche aia aia finì così quindi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate il campione iscrivetevi al canale